Sì, l'ultimo episodio è crashato male Quindi sono intervenuto su alcuni parametri E sperando che non succeda più Quindi eccoci ritornati Su Resident Evil Village Ok Avevo paura che si fosse frizzato di nuovo Veramente speriamo che non succeda più In teoria ho abbassato le impostazioni A sufficienza Non si sa Non si sa mai Da questo rubinetto non esce l'acqua Tra l'altro c'è uno spazzolino Molto pulito Da utilizzare Vedo Medicine Sì Questi rumori non mi piacciono affatto Cosa c'è dietro? Cosa c'è sotto? Scendiamo Piano 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 Non mi crashare Non si sa Si è da prendere qualcosa No Qualcuno che bussa? Ora Oddio Questo è un terremoto qua Aspettate un attimo Una strana figura Sembra quasi Una figura di Una figura religiosa Intanto teste di cervo Intanto è un posto molto pulito Ok qui siamo Perché ci ha bloccato Ok Guardate come si vede bene Come è fatto bene il sangue Molto realistico devo dire Cos'è successo Qui ci siamo già stati Scusate E' che Qui ci si perde Non c'è da niente Andiamo avanti Ora possiamo correre Yuhuu Piano eh Ma dove diavolo Mi trovo Cioè E' una figata E' una figata di posto C'è un castello così Con un villaggio Della fiaba Della fiaba Entriamo Non c'è nessuno No Non c'è Nessuno se non una brodaglia Di non so Che genere Una serratura facile Da scassinare Certo che Ragazzi C'è un divano Spaccato Tagliato a metà Praticamente Ehm Oh L'immagine di prima Che a quanto pare E' un'immagine Ricorrente In questo villaggio Che vorrà Significare Aio Cos'è Aio Andiamo qui Oh cazzo Ha visto qualcosa Tragissima Non si può C'è Scusate ma Non entrare Fantastico Ok non si apre neanche questo Non si apre quasi nulla Tutte macerie insomma E intanto I soffitti continuano a crollare Che ci fa questo qui? E' inquietante Ragazzi Questo villaggio Vediamo l'inventario Abbiamo la mappa si Inesplorata sezione esplorata Inesplorazione Ok Che buoni gusti Che buoni gusti Cosa hanno fatto? Non lo so e non lo voglio sapere Chiuso Il proprietario E' miracolosamente Sparito Interagisci E' chiusa Andiamo così Andiamo Entriamo dai Potrebbe rompersi Con questo coltello Posso rompere questa cassa E prendere la soluzione medica Vediamo nell'inventario Molto utile Quindi si comincia Con l'arma più rudimentale Di Resident Evil Un coltello Scappate via all'improvviso E questa è la brodaglia Ragazzi Io non so dove sta andando Merda Eh siamo chiusi Oh ragazzi C'è qualcuno? Ma dove bisogna Dove bisogna andare Scusate Ah Di qua No 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 Calmo Calmo Che sei? Chi ti manda? Nessuno Chi sei tu? C'è stato un incidente Sulla strada Che succede? Oh no Vecchietto Cosa succede? Arrivano Ma chi? Ma chi? Che cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma Perché dovrei averne una? No Dimmi che c'è da fuori Ma che cazzo? Mi sa che la tiene Oddio Mio dio Un cadavere Ce ne sono altri Magari adesso questo si alza All'improvviso Si risveglia Interagiamo Ehm Cristo santo Che cos'è successo A questo posto? A questo posto Questo è il nuovo Fresco fresco Ah Che cazzo Ma qui sempre le mani Che vengono Amputate Che cazzo era? Ehm C'è ancora eh Non è che No Pistola Ciao Dove sei? Schifoso Dai Dai Ricarichati No Dai cazzo Dai Vaffanculo Vaffanculo Ah sei morto finalmente eh Ma che cazzo Bravo Ma che cazzo Visualizza i materiali Fluido chimico Mi serve un po' di erba Ce l'avete l'erba? Eccola qua Ce l'avete La weed Ok Abbiamo creato La soluzione medica Sicuramente ci servirà Parecchio Oserei dire Perché questa musica Inquietante Perché abbiamo trovato un tronchese E quando abbiamo trovato l'erba Non c'era questa musica Coincidenze Io questo non credo Ok possiamo Tagliare Contro un case C'è una radio che va E io voglio sempre andare A esplorare tutto È chiuso dall'altro lato Bene Perfetto Dobbiamo per forza entrare Dall'ingresso principale Si fa per dire Principale Qui c'è una radio Non si sente Un po' di munizioni Va Che sento strani rumori C'è del sangue Che cola Si c'è del sangue Incidenti di percorso Si dice Cosa abbiamo raccolto Cosa abbiamo raccolto Aspettate Astardi Fatti avanti Cazzone No 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 Ok entrano tutti Oddio Ma sono Ma sono ovunque Signore Santo Muori Prima di Subito 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 Ok Ok Sono io. Finiti. Salve. Se per l'anno ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? Eh, a casa di Luisa. Ma mettiamo i sottotitoli anche, no? Gioco. Dov'è? Sì, io voglio i sottotitoli. Perfetto. Dov'è sta Luisa? Scusate, un attimo. Dov'è che si va? Si va di qua? Così? Sotto? No. Che zio. Dov'è tornare qua? Mi pare che bisogna passare di qua. Chi è da? Casa di Luisa? Mappa. Qui. Dov'è andare qua? E noi ci troviamo qua. Perfetto. Qui c'è una chiave con stemma di ferro. Ok. Bene ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. E ci vediamo. Grazie. Ciao. Ciao.